Buonasera a tutti, sono Davide Rota, l'amministratore delegato di Tessellis. Innanzitutto mi scuso per non essere lì fisicamente, ma un problema personale mi ha trattenuto a Roma. Ma ci tenevo a dare la nostra visione, la nostra opinione su questo argomento molto interessante, molto attuale e anche un po' complicato, delle relazioni tra intelligenza artificiale e lavoro. Riassumo in 30 secondi un po' chi siamo e cosa facciamo. Io sono l'amministratore delegato di Tessellis, come dicevo prima. Tessellis è un conglomerato di società in ambito tecnologico, le due più importanti sono Tiscali e Link, società che si sono fuse circa due anni fa per provare a creare un operatore di telecomunicazioni focalizzato non solo sulla parte residenziale, ma anche sulla parte business. Oltre a questi due operatori poi possediamo una serie di attività in ambito media e in ambito innovation, in particolare sull'utilizzo di nuove tecnologie per creare nuove professionalità e nuovi prodotti sul mercato. Sull'argomento delle interessenze tra intelligenza artificiale e lavoro, noi pensiamo di essere un caso sicuramente interessante. Allora, provo a raccontare un po' come è costruita la forza lavoro di Tiscali e di Link. Insieme hanno circa 900 full-time equivalent, poco più di mille persone. Sono la tipica società di telecomunicazioni costruita 15-20 anni fa, quindi con una forte componente di gestione di rete, con una fortissima componente di customer care, di gestione di tutta la parte di quella che è la relazione con le reti di vendita, la parte clientela, che erano nella stragrande maggioranza basate su gestione di esseri umani. Noi abbiamo 450 persone al customer care, una cinquantina di persone che si occupa di gestione di problematiche di rete. Quindi abbiamo tutti quei tipici lavori costruiti 25 anni fa, 20 anni fa, 15 anni fa, dove era fondamentale riuscire ad avere un umano che si occupasse, fatemi fare un esempio, si occupasse di capire quale snodo di rete si era rotto e contattasse l'operatore che doveva andare a cambiare l'apparato rotto. Si occupasse di seguire i clienti che avevano problematiche di vario tipo e genere in relazione alla loro contrattualistica, clienti che non funzionavano o qualche servizio, che avevano richiesto da punto di vista amministrativo. Noi abbiamo commissionato, abbiamo analizzato un po' con alcuni anche partner esterni, l'impatto nei prossimi anni dell'arrivo dei sistemi di intelligenza artificiale su questo tipo di lavoro e l'outcome è oggettivamente molto significativo. Siamo nell'ordine di un potenziale di un 30-40% di forza lavoro che potrebbe, nei modi, nei tempi corretti, non di cui essere sostituita ma essere significativamente aiutata da una macchina e da un sistema di intelligenza artificiale. Oggettivamente credo che questo dato, che magari non viene dato troppo pubblicamente, sia un dato comune a tutte le aziende che hanno quel tipo di background, cioè aziende che hanno fortissima componente umana su attività che da domani, in modo più o meno continuativo, possono essere fatte da una macchina. Non credo che sia una sorpresa per il mondo industriale, cioè penso che quello che sta succedendo sull'intelligenza artificiale e in parte era già successo con l'arrivo di internet è che una serie di lavori sono resi non più necessari, cioè se uno legge il libro dell'inizio della rivoluzione industriale in ambito tessile dell'Inghilterra del XVII secolo, vedeva come a un certo punto gli operai che in mestiere filavano il cotone appena arrivava una macchina avevano un po' la tentazione di dare fuoco, in alcuni casi non solo la tentazione ma anche l'attività, e dare fuoco al mulino dove è restata la nuova macchina. Siamo un po' secondo me in quella situazione lì, cioè nel momento in cui hai bisogno di chiamare un customer care per sapere a che stadio era il tuo bolletto o perché è stato bloccato un servizio, sono attività che molto semplicemente possono essere fatte dalla macchina. La connessione tra un pezzo di rete che si rompe e la persona che andrà ad aggiustarlo può essere fatta con un API, con un sistema che è connesso a una macchina. E siccome poi penso che questa cosa possa avere gli aspetti di sviluppo che neanche ci possiamo immaginare, cioè pensate a tutto il mondo della cosiddetta embodied AI, dove l'AI anziché essere messa dentro un computer è messa dentro un umanoide che anziché aver bisogno di essere programmato come è oggi nella 99% dei casi dei robot può autoapprendere delle attività e decidere cosa fare. Sono 4-5 aziende, 4-5 centri di ricerca in giro per il mondo da cui uno il più grosso è anche in Italia che stanno studiando come l'intelligenza artificiale all'interno di un apparato fisico, quindi all'interno di un robot possa andare a fare tutta quella tipologia di lavori che ad oggi sono molto pericolosi per un essere umano. Immaginate i lavori di emergenza che si fanno dentro un data center, il data center in atmosfera rarefatta, non può avere l'ossigeno che c'è fuori per prevenire gli incendi, la temperatura di un certo tipo. Se scoppia un microincendio oggi ci devi mandare un umano per fare questo lavoro, domani ci potrei mandare un robot. Tutto questo per dire che personalmente la vedo come una notizia molto positiva all'arrivo di questi sistemi. Quello che bisognerà fare però, poi provo a dire qual è la nostra soluzione, poi ovviamente non con l'ambizione di poter essere la soluzione per tutti, è che questa cosa va considerata. E bisogna cominciare a far sì che le persone, anziché essere esperte di risposta al customer care a un utente che si lamenta, siano esperte di servizi che servono per l'intelligenza artificiale. Come successe poi nell'esempio che facevo prima, cioè quelli che ebbero più successo nel riconvertirsi fuori le persone che anziché filare il cotone a mano cercano di capire come funzionava il lavoro del cardatore di una macchina. Siamo un po' in quell'ambiente lì, no? Ci saranno centinaia e migliaia di opportunità per chi si apprope di quell'expertise, che non è un'expertise necessariamente nelle mani di un ingegnere elettronico col massimo voto all'università. Fatemi fare degli esempi. L'intelligenza artificiale applicata a alcune attività di salute prevede che le macchine siano trainate previo inserimento e caricamento di tutta una serie di esami precedenti. Ci sono ad oggi dei sistemi diagnostici che si stanno costruendo che in qualche modo possono dare un'indicazione al dottore se secondo il sistema il paziente ha o meno un certo tipo di tumore. questa macchina ha bisogno di decine di migliaia di sample, cioè di esami per poter funzionare. Servirà qualcuno che nel modo corretto si occupa di mantenere viva questa attività. Quindi diciamo da attività a minor valore aggiunto quanto possa essere questa, l'attività invece ha drammaticamente più valore aggiunto, no? Nella sicurezza informatica l'intelligenza artificiale aiuterà a far sì che i security center possano capire meglio come gestire alcune problematiche piuttosto che guardarsele tutte. Quindi anche lì bisogna creare delle professionalità. Noi nel nostro piccolo abbiamo partecipato a un bando dell'Unione Europea, della Commissione Europea che ci ha assegnato un contributo a fondo perduto molto significativo per iniziare a sviluppare verticali in cinque ambiti che possano creare il link tra quello che è la tecnologia di intelligenza artificiale e l'uso di questa tecnologia nei mercati interessanti, che poi è quello che si è fatto in internet alla fine del secolo scorso. Cioè la tecnologia è stata capita da delle società che hanno integrato queste tecnologie sui servizi verticali che servivano poi all'utente finale. E quello secondo me è la cosa che dobbiamo provare a fare. Non focalizzarci sul fatto che l'intelligenza artificiale arriverà a togliere dei posti di lavoro, ma cercare di capire per tempo quali sono quelli che verranno creati, in modo tale che questa efficienza che verrà fatta dall'intelligenza artificiale a non verrà fatta sulla pelle delle persone che lavorano. Quindi non diventerà semplicemente un sistema per risparmiare il costo del lavoro, ma possa anche permettere alle stesse persone che magari ad oggi fanno un lavoro pericoloso, ripetitivo, un po' eccessivamente rutinario, di prendere delle competenze che gli permettono di fare delle altre cose.